Tutto pronto per il quarto round dei trofei moto estate, il circuito è sempre questo, è quello di Varano, la classe regina, la 300 Supersport è pronta a battagliare con un Sorrenti che vuole recuperare su Bollani, un Bollani che non vuole lasciarlo andare, i due Aloisio, la wildcard lisci e chi più ne ha più ne metta per uno spettacolo, mira Bollante, Carpinone Longo a fare da cornice con un Zannoni e un Cervioni che se le vogliono dare di santa ragione, A tra poco per la 300 Manuel Puzzo un rientro al moto estate, una sessione di prove che ti ha riservato qualche problema in più forse di quello che ti aspettavi Sì certo, è sempre un'incognita, adesso vedremo di infilarci in qualche buco perché la prima curva è veramente difficile, ci daremo spallate Mirko Carpinone siamo al pronti via di questo quarto round del moto estate, una sessione di prove dove sei sensibilmente migliorato rispetto alla tappa di Magione Siamo discretamente migliorati, adesso c'è gara 2, dopo il warm up di stamattina abbiamo capito delle cose importanti e adesso ci riproviamo Andrea Sorrenti, questo quarto round del moto estate della tua stagione del debutto ti ha riservato qualche problemino in più forse di quello che ti aspettavi ma non si molla mai in vista della gara Sì abbiamo cambiato moto, siamo un po' in difficoltà ma cercheremo di rifarci in gara C'è un punto in cui ti senti particolarmente forte? Sì, penso nelle frenate Andrea Longo, siamo alla vigilia della gara del quarto round del trofeo moto estate, un varano che in prova ti ha riservato qualche problema in più di quello che ti aspettavi Sì, essendo che siamo partiti non per colpo nostro ma nelle condizioni del meteo, abbiamo girato poco, siamo riusciti a non raccogliere dei dati molto buoni per la visione del weekend ma siamo obiettivi e cercheremo di fare una bella gara E adesso da questa gara cosa ti aspetti? Di stare attaccati al gruppo e di battarla insieme agli altri Tutto pronto per la partenza della 300, bandiera rossa che sta sventurando e che si sta accompagnando via via fuori, bandiera verde alle spalle, Aloisio, Sorrenti, Sala, Lisci, Zannoni, Aloisio, Bollani, Cervioni, Vironi Ci si gioca una grande posizione per quanto riguarda la vitra finale partiti, mi sembra partito abbastanza bene Sorrenti ma Pietro Aloisio zigzaga un po' Sorrenti Aloisio davanti a tutti, si prende la testa della classifica, Sala accompagna Sorrenti ancora alle spalle Occhio perché questa è una gara stra importante Pietro Aloisio davanti mentre Francesco in quarta posizione Si accatastano una marea di Kawasaki lì alle spalle, le vedete? Tutte verdoline sono, sembra che hanno fatto una scelta tutti Usiamo la moto verde, chi ci aiuta un po' è Pietro Aloisio che si mette davanti a tutti e inizia a fare il ritmo della gara Grande partenza di Bollani che si trova a quarto, quinto Pietro Aloisio non benissimo con la 37 Cervioni che però in realtà mantiene la propria posizione perché si trova in ottava Adesso cerchiamo di iniziare a capire qual è il ritmo di chi sta davanti Sorrenti si è messo in terza e sappiamo che Sorrenti sta facendo, sta cercando di fare la rimonta impossibile alle spalle di tutti gli altri Sala secondo e allora andiamo un po' a fare un disclaimer su quelle che sono le posizioni Davanti a tutti, mamma mia Sorrenti subito prova ad entrare fortissimo Su Stefano Sala non ci riesce Prima curva, abbiamo visto tanti errori in curva 1 con tanti dritti Chi sta davanti è sempre Pietro Aloisio E allora Aloisio, Sala, Sorrenti che subito si avvicina Ad Aloisio non ci riesce, Bollani Uuuuh, doppia caduta, doppia caduta Sono andati per terra Lisci, mi sembra Aloisio Brutta caduta, o meglio Aloisio cade E dietro Lisci non può nulla, impatta su di lui Primo colpo di scena, cadono Lisci e Aloisio O meglio, Aloisio scivola e Lisci non può fare in modo di evitarlo perché è alle spalle Primo colpo di scena Davanti resta Pietro Aloisio, il fratello Cade, verrà probabilmente adesso avvisato anche dal box, dal muretto Aloisio Sala, Sorrenti Bollani Si stanno isolando, sta diventando un 4-4 I magnifici 4, e eccola, mamma mia Sorrenti è uscito talmente forte che a momenti se ne va nella ghiaia Ma sta iniziando a mettere nel mirino Sala Sorrenti lo passa Forse qui la staccata può aiutarlo Sì, Sorrenti passa a Sala Super sorbasso da parte di Mattia Sorrenti Che si mette davanti E adesso va all'inseguimento Della numero 4 di Pietro Aloisio Anche Bollani Prova a far fuori Sala Non ci riesce subito La caduta di Pietro Aloisio Clamoroso Clamoroso Altra caduta Questa volta dell'altro fratello Pietro Aloisio E allora prima Il buon Francesco Aloisio Poi Pietro Aloisio Scivola nella stessa maniera E allora è diventata di nuovo Sorrenti Bollani Pazzesco E' come se avessero voluto fargli Una sorta di regalo I fratelli Aloisio O meglio Non Francesco Che era alle spalle Ma che si stava gettando All'inseguimento E chissà che anche Lisci Non avesse potuto provare A fare qualcosa di più Sorrenti Adesso è davanti Di nuovo Come sempre Sorrenti Bollani Sala Mamma mia Che discrepanza che c'è Soprattutto su chi sta Inseguendo E sta salendo su Zannoni sta facendo particolare fatica oggi Zannoni alle spalle di Cervioni Fa particolare fatica Ma ce l'aveva detto Anche dietro Longo Puzzo Stanno cercando di risalire Un po' tutti la china Ma mi sembra che possiamo stare concentrati Purtroppo per fortuna su quei tre Eccolo qui Manuel Puzzo Che sta cercando di inseguire Un gruppetto di cinque moto E chissà che non possa riuscirgli lo spunto Si è detto particolarmente soddisfatto Al termine delle qualifiche Manuel che sta provando a ritrovare Uno stato di forma interessante E che si è Rimedesimato Rimescolato all'interno del MES Quest'anno Mentre L'addietro Imperversano le lotte Le sfide tra i vari piloti Quello era longo Intanto l'abbiamo visto E occhio perché mi sa che Sorrenti Sta iniziando a provare a scappare Sorrenti ha capito che può diventare la sua gara Mirko Carpinone Anche lui Che non aveva avuto Un grande spunto per quanto concerne la qualifica Sedicesimo Ma si era detto soddisfatto Di come si stava trovando a suo agio Con la moto Anche e soprattutto dopo Magione E allora chissà che non riesca Anche lui Con un buono strappo Ad avvicinarsi Contanto che ne sono già caduti Tre Purtroppo Pietro Aloisio Liscio e Francesco Aloisio Così dice la classifica Bollani davanti a Sala Sorrenti sta scappando Letteralmente scappando Un secondo e mezzo Bollani non riesce A far sì che Sala Gli stia dietro O meglio Non riescono insieme Ad andare a inseguire Tutti quanti gli altri E allora diventa complicatissimo Diventa complicatissimo Andare a riprendere Tutti quanti gli altri Con Virone che insegue Che sta provando anche lui In qualche maniera A risalire la china Ed effettivamente È proprio Virone Dietro Bollani e Sala Chissà che non inizi Pure lui A sfruttare questa sfida Eh per adesso Non sembra che ci siano i margini Ma per adesso Siamo a metà gara praticamente 5 su 11 Bollani Costantemente tampinato da Sala E Sorrenti Che continua a guadagnare tre decimi Monitor dei tempi alla mano Sorrenti sta sfruttando In maniera impeccabile La sfida Bollani e Sala Che non sta Aiutando entrambi E anzi Virone Con qualche buon tempino Sta iniziando ad avvicinarsi 4-4 Due decimi di riguadagna Dietro Cervioni e Zannoni Per quanto riguarda la quinta E la sesta Con un Zannoni Che molto brevemente Non riuscirà più Ad incollarsi Ad avvicinarsi Al trenino di tutti quanti gli altri Eccolo qui Giacomo Zannoni Che ha accusato qualche problema In mattinata Del sabato Quando pioveva Per quanto riguarda La moto Ma che ha deciso comunque Di gareggiare Dando comunque Quel principio A quel tocco Di personalità Che mai non guasta Giacomo Zannoni Con il suo box Completamente A disposizione Per questo ragazzo Ed un Zannoni Che prova ad inseguire Cervioni Senza di uscire A scavalcarlo Ricordo che Zannoni partiva Dalla quinta Cervioni dall'ottava Là davanti Bollani non molla Là davanti Non molla Nemmeno Stefano Sala È una gara Bella Bella intensa Bella intensa Peccato per le cadute Dei due Aloisio E anche per quella Di Rishi Perché a mio modestissimo Parere Il mio modestissimo Parere Potevano davvero Dare spettacolo E intanto qui Un'inquadratura Con Longo E poi via via Tutti quanti gli altri Stanno arrivando Anche Carpinone In co Eccolo qua Mattia Sorrenti Ultima Il sesto giro Troppo che 7 su 11 E adesso Vede più vicino Il La parte finale Della gara Bollani Insegue Virone Ha preso Quasi Bollani E Sala A furia di Chiaramente Andare ad un ritmo Che è quello Che riescono a sostenere Senza riuscire A stare dietro A Sorrenti Virone Trascinandosi dietro E continuando a vedere Le sagome Delle due moto Mamma Bollani Ha fatto una fatica bestia Qui a restare in piedi E' sembrato quasi Che stesse per mollare giù la moto Ha rischiato tantissimo Qua Bollani A mio parere Bollani Sta forzando tantissimo Perché sa che si sta giocando Una porzione importantissima Di campionato Vede Sorrenti scappare via Sa che Sorrenti Alla prima gara Ha fatto 1-0 Eppure Si è rimesso lì Si è rimboccato le maniche Le ha vinte praticamente Tutte Cremona Magione E adesso è qui in attesa Se è andato lungo Bollani E' andato lungo Bollani Clamoroso Non riesce a rientrare Cade Bollani Cade Bollani Clamorosissimo Quello che succede Alla fine del settimo giro E qui Sorrenti Può davvero Tirare un sospiro di sollievo A questo punto Anche Sala Che deve stare attentissimo Perché però ormai Virone lo ha preso E dietro Cervioni Zanoni Clamoroso Tra il primo e il terzo giro Si sono consumate Delle cadute eccellenti I due Aloysio e Lisci Ma al settimo giro Questa può essere Una pietra filosofale Per la vittoria finale Di Mattia Sorrenti Della competizione Cade O meglio Fa un lungo Davide Bollani Che a un certo punto È quasi costretto Ad accompagnare Per terra la moto E chissà Che adesso Non si è riuscito A rialzarla Questo è un interrogativo Interessante Ma sicuramente Non riuscirà a cogliere Chissà quanti punti Bollani a terra I due Aloysio a terra A terra Lisci Sembra più una gara Con un cecchino Fuori Purtroppo Ne cadono Quattro Il clamoroso Intanto La sfida Cervioni Zanoni Praticamente è una sfida Che c'è dal terzo giro Non si stanno mollando Dall'inizio Ma Zanoni Non riesce nello spunto Ne scavalcare Cervioni Sono interessatissimo Anche ad un'altra sfida Che è quella Sala-Virone Perché Virone Si è ravvicinato tantissimo Allora vediamo passarli Sorrenti va E continua a tirare dritto Come un mandingo Bravissimo Mattia Sorrenti Per adesso Che non ha sbagliato Ma che può Paradossalmente Permettersi anche un po' Di andare più piano Perché tra un po' E a questo punto Non so Se si concretizzi Ma c'è la possibilità Chi lo sa Che Stefano Sala Non venga preso da Virone E che diventi Un corpo a corpo Sala-Virone Poi guardateli qua Tutti quanti gli altri Da Longo Passano i vari Iotti Puzzo Riva Adesso tra poi Vedremo Passare un po' Tutti quanti Che si stanno sfidando Per quelle posizioni Che all'inizio Erano posizioni Un po' meno interessanti Ma che con queste cadute Sono diventati Stra-Importanti Anche perché c'è un certo tipo Di continuità Anche perché Oh Virone ha preso Se questo è Virone Ha fatto un sorpasso pazzesco Ha fatto un sorpasso pazzesco Virone Si è lui Virone scavalca Sala Clamorosissimo Ma entra con una cattiveria Un'audacia Una perseveranza pazzesca Mattia Virone Si mette in seconda Sala non può nulla Io penso che Sala Non ne abbia più Mi sembra Di aver capito Che Sala Non ne abbia più E probabilmente Virone se gira così forte Avrebbe provato a prendere Sia Bollani Che Sala Ma Bollani servivano Quei punti Purtroppo quella caduta Diventa davvero Forse Irrimediabile Per la fine Del Del torneo Della competizione Sappiamo che siamo Al quarto appuntamento Il quinto appuntamento In quel del Cremona Circuit Vi aspettiamo tantissimi Non sta mollando però Sala Vuole stare alle spalle di Virone Sorrenti scappa Se ne va via È felice Bello e beato Sappiamo della sua grande amicizia Con Bollani Non può chiaramente Farlo felice Una caduta Senza conseguenze Da parte del compagno Ma a questo punto Tra poco vedrete Last lap Manuel Puzzo Intanto all'inseguimento Di qualche pilota Che gli si para Di fronte A molta strada libera Puzzo Forse Non ne aveva più Non penso che le gomme Possano aver Inficiato Influito Sulle prestazioni Di vari piloti Mentre È passato Sorrenti Per l'ultimo giro C'è ancora Sala davanti O meglio Virone Scusatemi davanti a Sala Ho il monitor dei tempi Con tutti i distacchi E È un distacco Irrisorio Quello di Virone Che sembrava scappare Sala lo ha ripreso Ci si gioca tutto All'ultimo secondo Come Zannoni Ragazzi Zannoni È stato dietro Cervioni Che sta facendo Una prova Magistrale Magistrale Cervioni A tenere dietro Zannoni Che ci sta provando In tutte le maniere In questo momento È magistrale Anche Virone Su Sala Chi è però Chi vince La laurea Ad honorem Anzi ad honoris causa La sta vincendo per ora Super Mattia Sorrenti Che davanti Non sta facendo E regalando Sconti A nessuno Mamma mia Prova a passare Sala Virone Gli sbatte La porta In faccia Aveva provato Sala E tra poco Allora sarà Probabilmente Finale Al foro finish Finale Al cardiopalmage Perché tra un po' C'è la bandiera Scacchi Che ci potrebbe dire Che Mattia Sorrenti Eccolo qui Affronta l'ultima curva Piano 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 Mattia Sorrenti Dolce 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 Va ad affrontare Questa semi Parabolica E poi L'ultima chicane Vince Super Mattia Sorrenti Che si gira Esulta E questa è una vittoria Pesantissima Dietro Virone E Sala Arrivano Secondo e terzo Una caduta Un'altra caduta Le stiamo andando A rivedere Le cadute Di Bollani Di Aloisi Di tutti gli altri Vince Super Mattia Sorrenti Secondo Virone Terzo Sala Quarto Cervioni Quinto Zannoni Sorrenti Si avvicina Tantissimo Alla vittoria finale Grazie a tutti A Cremona ti Sala Sala A Cremona Sala Sala Sala